Cacciolo due per pigliare una pomagna che tocca sempre tu, gli dice che dietro fuori? Io basta cacciare i coiacchi, i cannelloni stanno partendo, io i due vigni, che dietro fuori? Mi fa vincere una roba a cagliattare? Mudegno? Dice sì. Mentre discute che il cliente, la sigaretta, non so come fu, piglio un locale pigliato a fuori, cioè un'ala del locale, il principale che è rimasto bloccato di là che non poteva venire di qua che c'era il telefono, ci fa cacare, io telefono ai pompieri, i pompieri, dice che a chi? Magari lo so dire, i pompieri, i pompieri, io che non vado a fare? Dici 115, chi sto facendo chimico? Chi non è spugnato? Pronto? Vigilato del fuoco? Io questo ci fa cacare, pronto? Vigilato mi dica, ci dico pronto, abbiamo capito, vigilato del fuoco, mi dica, vedendo che questo si è un po' toglia, il principale ci fa canta, canta, perché tu sai che i papuzienti quando cantano non mi abbettono e giusti cantando, ci dici che io gli ho un locale pigliato, il fuoco, i pompieri, i pompieri, i pompieri, oi, 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 oi.